Se si rompe l'anta del frigo, è a carico tuo la riparazione inquilino. Se invece si dovesse rompere la scheda mare del frigo, a quel punto sarà il proprietario a dover affrontare la spesa della sostituzione. Nel caso di affitto di immobile con riscaldamento autonomo, la sostituzione della caldaia spetterà a te proprietario, mentre la manutenzione ordinaria, quindi il controllo dei fumi e il bollino, spetterà a te inquilino. Si rompe il miscelatore? L'apertura e la chiusura non funziona? È una manutenzione ordinaria, spetterà a te inquilino la riparazione, mentre se il problema viene provocato dalla rubinetteria completa, spetterà a te proprietario la sostituzione. In caso di serranda elettrica in casa, la riparazione dei pulsanti che permettono la salita e la discesa, spetterà a te inquilino, perché è una manutenzione ordinaria, mentre se si dovesse rompere il motore della serranda che permette il corretto funzionamento, è un'opera straordinaria e spetterà a te proprietario la riparazione.